Sono arrivati gli eco-incentivi statali sull'usato. Con gli Spoticar Eco Days hai 3.000 euro di sconto su una selezione di auto usate. Grazie al bonus Spoticar e agli eco-incentivi statali. Affrettati! Scopri dettagli e condizioni su spoticar.it Spoticar. Auto usate per un nuovo futuro. La bike economy e il cicloturismo. La finanza amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi. Benvenuti ad un nuovo episodio della finanza amichevole. Essendo il 3 giugno la giornata mondiale della bicicletta, parleremo di un settore in forte crescita negli ultimi anni. La bike economy e in particolare il cicloturismo. Partiamo come sempre con il definire ciò di cui stiamo parlando. La bike economy comprende tutte le attività economiche legate all'uso delle biciclette, dalla loro vendita a quella degli accessori collegati ad esse, alla costruzione di infrastrutture ciclabili, fino ai servizi di riparazione e manutenzione. Negli ultimi anni questo settore ha visto una crescita esponenziale, alimentata da una maggior consapevolezza ambientale, dall'interesse per uno stile di vita sano e dall'aumento del cicloturismo. Tanto che, secondo il recente rapporto Viaggiare con la Bici 2024, realizzato da Lega Ambiente e l'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, l'anno scorso sono state registrate oltre 56 milioni di presenze cicloturistiche in Italia, con un aumento del 4% rispetto ai dati precedenti la pandemia. Questo tipo di turismo combina l'attività fisica all'esplorazione di nuovi luoghi, offrendo esperienze uniche ai viaggiatori e, benché stia crescendo, non è una novità, almeno a livello continentale. Basti pensare che già nel 2012, secondo uno studio di Eurovelo di quell'anno, la rete europea di piste ciclabili, il cicloturismo generava annualmente oltre 44 miliardi di euro in Europa. Paesi come la Germania, l'Austria e l'Olanda sono sempre stati tra i maggiori beneficiari di questo trend, grazie a infrastrutture ciclabili ben sviluppate e a un'ampia offerta di servizi dedicati. Questo tipo di turismo combina l'attività fisica all'esplorazione di nuovi luoghi, offrendo esperienze uniche ai viaggiatori. Il tutto, oltre a ridurre le emissioni dovute allo spostarsi tramite veicoli a motore. La Federazione Europea Ciclisti ha provato a calcolare il valore economico dell'uso della bicicletta nei paesi dell'Unione Europea, stimando che la vendita e l'affitto di biciclette e componenti, lo sviluppo infrastrutture ciclabili, i benefici all'ambiente, i vantaggi per la salute intesi come risparmio del settore sanitario, il risparmio nell'uso del carburante e la riduzione di inquinamento e rumore si traducono in una cifra pari a oltre 500 miliardi di euro. Se ampliiamo il raggio a livello mondiale, i dati aumentano ulteriormente. Secondo uno studio di Exatitude Consultancy, pubblicato lo scorso dicembre, il mercato globale delle biciclette raggiungerà un valore di circa 215 miliardi di dollari entro il 2030, con un tasso di crescita annuo composto di circa il 10% e la regione Asia-Oceania che da solo porterà quasi il 40% del valore complessivo. Una componente fondamentale per il successo del cicloturismo è la presenza di strutture recettive adatte, come i bike hotel. Questi hotel offrono servizi specifici per i ciclisti, come garage sicuri per le biciclette, officine per le piccole riparazioni, menu energetici e mappe con percorsi ciclabili consigliati. Questo fenomeno è supportato da una crescente domanda di esperienze turistiche su due ruote, che promuovono uno stile di vita attivo e sostenibile. Oltre a questo alloggi su misura per i cicloturisti, tale crescita non sarebbe possibile senza adeguate infrastrutture. Negli ultimi anni, molti paesi hanno investito significativamente nella realizzazione di piste ciclabili, ponti e parcheggi per biciclette. Ad esempio, la Francia ha lanciato l'anno scorso un piano di investimento di 250 milioni di euro per anno per migliorare la rete ciclabile nazionale, con l'obiettivo di raddoppiare la sua lunghezza entro il 2030. Senza dimenticare gli eventi di bikepacking, ovvero il fare dei lunghi tour in bicicletta portandosi appresso i bagagli con tutto il necessario per restare fuori casa per più giorni. Uno degli eventi più conosciuti al mondo in questo ambito, ovvero il Tuscany Trail, vanta il record di 4.700 partecipanti a un evento di questo settore per visitare una parte della Toscana per circa 470 chilometri con un dislivello di 6.500 metri. Se consideriamo anche il mercato del lavoro, l'espansione della Bike Economy sta generando anche nuove opportunità professionali per appassionati che vogliono diventare addetti al lavoro. Elencando brevemente alcune delle professioni emergenti, possiamo citare i Bike Manager, cioè professionisti che gestiscono le attività legate alla bicicletta in hotel, resort e altre strutture turistiche. La guida cicloturistica, cioè esperti locali che accompagnano i turisti nei loro percorsi ciclabili, offrendo supporto e informazioni culturali e ambientali. Il tecnico di manutenzione per i Bike. Con l'aumento della richiesta di biciclette elettriche, la domanda di tecnici specializzati nella loro manutenzione è in crescita. Lo sviluppatore di piste ciclabili, ingegneri e urbanisti specializzati nella progettazione e costruzione di infrastrutture ciclabili. Il consulente di mobilità sostenibile, esperti che aiutano le amministrazioni pubbliche e le aziende a sviluppare soluzioni di mobilità sostenibile, inclusa la promozione dell'uso delle biciclette. La Bike Economy e il cicloturismo rappresentano una delle frontiere più promettenti del turismo e della mobilità sostenibile. Con una domanda in costante crescita, supportata da investimenti pubblici e privati, questo settore offre importanti opportunità. Sapendo che le richieste stanno cambiando, è possibile considerare la bicicletta non più solo come un mezzo di trasporto, ma come sviluppo economico e sostenibilità. La citazione di oggi è la seguente. La vita è come andare in bicicletta. Per rimanere in equilibrio, devi muoverti. Albert Einstein. Rendiamo la finanza amichevole. Vi aspetto. Cliccate sulla campanella per non perdervi nessuna notifica agli ultimi episodi. Potete ascoltare questo podcast sulle principali piattaforme disponibili. È notte. Piove da ore. Non c'è corrente elettrica. Niente linea telefonica. Tu sei lì, mentre centinaia di persone gridano aiuto. Che l'acqua continua a salire. Io sono Marco Cortesi. Io sono Mara Moschini. E insieme vi porteremo nel vivo di uno dei più gravi disastri climatici mai avvenuti nel nostro paese. Questo è Fango. Ascolta l'ora su tutte le piattaforme di podcast. Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music. E se sei un utente Machinica. Grazie.